Allora, l'importante ovviamente è non vedere piante strane, se no vai a giocare piante contro zombie Kevin, non è difficile Ready for company. Deploying welcome men Il posto più costato assoluto Io ho votato caffè Io ho votato caffè boh Potrei mettere anche lo spinato Ci sono due porte su caffè Cioè su Mensa Non ne abbiamo scelto, perfetto Ah no, abbiamo scelto, si su Mensa, aspetteria Bravo, come sei sexy Hai visto? L'unico di operatore di difesa con la figa L'ho fatto davvero? Troia! Escile subito Sì, sì, adesso lei esca subito Non puoi toccarla nella patata perché c'ha la tagliola Cazzo! Vabbè sì Bella Ottimo Sono cazzi poi, dici Cazzo stiamo giocando senza operatori tedeschi, raga Senza Bandit e Jager Speriamo Eh, ce ne faremo una ragione Piazza le... Piazza le cose all'ombra, Drac All'ombra? Piazza i tappeti, eh io? Piazza un tappeto! Piazza un tappeto! Piazza un tappeto all'ombra No, 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 prima... No, 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 prima... Scusi Piazza un tappeto Oh, il trauma pack l'avete piazzato? No Piazza un tappeto Piazza un tappeto? Ma dice veramente il piazza un tappeto? Io stavo scherzando No, no, lo dice davvero Vai scuri Trauma pack Trauma pack Trauma pack attivo Oh, no, no, no Presi due droni Eh, ragazzi c'è un bordello di muri da rinforzare qua, ragazzi c'è... Arrivo, arrivo Sante... dove? Tutto da rinforzare quel muro qua Cazzo i trauma pack mancano anche Eh... Togli quella trappola da lì Le trappole dobbiamo poter vedere... Piazza c'ha i guanti rossi Eh, piazza qua, dracon, piazza qua Eh, ormai qua Prendi la trappola che hai messo più lontano No, ce n'è un'altra di trappola Dove le vuoi mettere? Dove le vuoi mettere qua? Ok? Tranquillo Piazza un tappeto Posizionamento tappeto Posizionamento tappeto Sto... sto di sotto Sto di sotto Non faccio in tempo prendere il trauma Perché sennò poi mi fregano Hanno trovato lo stagio eh Tu dove stai? Dove stai? Eh, sto per arrivare, devo chiudere Sei bug... gata la barricata di Kevin Eh, arrivo Cavoli questa stanza mi sa che era più blindata Qualcuno che fa un giro di telecamere? Sto arrivando Sì Faccio io Sì, ma non anche te qua Kevin Sopro? Ok Eh, c'è uno col drone che sta girando per la mappa Esatto, esatto Uno fuori Ok, no, ne sto spottando alcuni No Aspetta Kevin, non possiamo stare tutti qua però Andiamo Stai lì, stai lì, non seguiremi, stai lì, non seguiremi Non sento niente Cazzo Dimmi ho sentito... Ho sentito... rumori Ti seguono Guardo le telecamere Sto tenendo sta scale qua, che viene da giocare flash però Guarda dietro file Vedo il termine Non so cosa intendiamo con quelle scale Quelle scale Eh, è da questa parte Allora io vengo da dove siamo scesi Spot il termine Guarda dove siamo scesi noi Kevin d'Ali, Kevin d'Ali C'è il termine vicino a te, guarda C'è anche un... un toucher con lui Sono in due, cazzo Vedi dove ho spottato Preso uno E' sopra le scale eh Dove ho spottato sono in due Cazzo la Nitro Solo non ha funzionato Ah ok, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto È là Kevin occhio eh Eh, occhio tanto qui c'è gente Vado a me C'è gente brutta Sopra Kevin, te l'ho detto, sono in due Eh lo so, sono in due Due C'è qui c'è gente, cazzo te l'ho detto prima Ormai sa Sono in due Kevin intendo questa parte qua eh Il trauma pecca non fateglielo prendere ovviamente Non aver paura Kevin, sono io che sparo a loro Kevin sembri che andrà dietro però dimmelo, è figa Occhio sento dei passi di quattro in Occhio red, occhio red Ferimento tappeto, ma come cazzo Come non l'ha ucciso il tappeto, dai Ferimento Vito mica uccisione, vuoi stanno latano Pensavo che shottasse No, ho un shot, ti buttava per terra Occhio tra i nascondi qua Un altro ferimento tappeto, raga Voi hai fatto un assist col tappeto Uno ho preso quello che ho ferito col tappeto Eh, non lo vedo, non C'è... Eh sì, non ci fai mai caso, cazzo È una cosa troppo troppo, cambi proprio Che un'altra cosa Dai raga, hai fermi Dai, raga, hai fermi Dai, c'è il riscuro Uno era qua, era il Thermite, qua sopra con me Eh, fatti qua Da qualche parte qua sopra È sceso? Eh, mi ha fatto tutto È sceso ormai, ok Fuori blitz, c'è poca vita Ma il blitz mi ha fatto fuori Raga, sto facendo il giro da dietro Che bel colpo ha detto Red, è sopra di te Bravo, occhio, occhio, ce n'è una Sì, col tappeto, sei cazzo Col tappeto Sei diventato dolaz Sei diventato dolaz Ah, guarda quello che ti ha detto che... Ai 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 Si parte col volo, cazzo Stessa uccisione che io prima Mentre che parlavamo Uguale, è una soddisfazione incredibile Eh sì, confermo Cazzo, però sto facendo il giro da dietro, che palle Motoslitta? Vai Sì Vai Kevin, fanno il buon uso, Eddie Buck Fanno il buon uso Ah, sì Drakon Drakon Un momento, facciamola... L'inser... Volete... Volete provare a fare l'inserzione dall'alto? Va bene Sì, sì, esatto Sì, quella cosa legge Così, quella cosa legge Così non prendo la flashbang Però ascolta una roba, Red I cuno ne ha male per i tappeti Ci stavo pensando ora Che cazzo... No, ma non è elettrico, eh È elettrico No, ma non li rileva Non li rileva, no No Penso che si veda comunque Certo che no, è molla Non ci credo Vabbè, ehm... Raga, io vado al piano più in alto di tutti A qualcuno vada di sotto Eltronica Ok, sono... qua Dove gli ho segnalati Io non so bene dove cazzo sono qui Vi ho segnalati un botto, raga C'è uno col fucile a pompa Dimmi che non sono nel centro di compando Sono... nel bar tipo non so dove cazzo è Ah, ok, casino casino Tipo casino No, 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 no Sì, casino Sì, casino Sì, casino Non cap, non cap Un ostaggio nell'angolo Ottimo Ma dai, ma ancora con cap Che non gli spalle Sì, ma che palle, veramente 5 secondi all'inserimento Altri operatori sono usati Ho visto ci sono delle finestre Le finestre dove ha piazzato il capcan Dai, raga Non sono... I motoslint E ho provato Scherzi Quelli sono punti per fare... Spawn kill Allora... Vi viene passare da sopra, eh, come abbiamo detto Allora... Red, te passi da sotto però E noi da sopra Sopra voglio red Sì, sì No, non red, scusa Phil Ok E... E... E tre anche c'è lo scudo, ok? Tattica che abbiamo visto oggi, diciamo Io con... Ok, vado Te vieni con noi Sì, telecamera No, vai con red, scusa Con red Con red, vai Però è troppo bianca sta mappa, eh Sì, sembra... Non riesco a sparare la telecamera, cazzo Eh, siamo stati individuati, eh Dovrebbe arrivare di pre, dovrebbe arrivare Eh, io sto spara... Boh, la telecamera l'ho presa Ho sparato mille colpi Chi viene con me, eh? Viene... Viene Kevin Cado dal ghiaccio Vai, il treno, entra lì Non qua giù, Kevin Dov'è? Giù, Kevin Oh, merda Andiamo, andiamo Dove? L'ho ferito di brutto ma non muore Tieni presente con fuscita a pompa, nel caso in cui ci serve Bravo, train Grande cazzo Thermite 4 Che bullo C'è la carica giusta, Thermite Vai Cazzo, però da sotto Sto vedendo che possono salire Cazzo, train Bella Mi sono cagato, mano Vai, falla saltare Occhio a non sparare allo stagio, figa, eh Veloce che mi stanno sportando, eh, Kevin Veloce che sennò No, mi hanno individuato, cazzo Ma no, ho schivato tre nitrosel Siamo Kevin Dai che faccio la quinto Merda mi ha ferito quella Occhio al capri Metti dietro il divano, Kevin Ragazzi sono entrato col martello, entrate anche voi red veloci Non ho un cazzo, sanno che sono qui Siamo non sono lontani Sono lontani Sono lontani Sono lontani, dracca ancora Sono morto Ma vai, vai tranquillo È lontanità Tanto T'allontani dracca ancora Dovete entrare veloce allora entro con il salario sono detto con lo studio cazzo e lo prende l'ho premuto si si prende lo metto bella panto per la merda si muoveva tra le case mappa nuova dove andare andate grazie a una nuova cazzo bravo kevin ero so ora che c'è il momento cacchio spintegliare i colpi cazzo che c'è me la storia o trovare le scarpe pazzesco train c'è un caso anche noi facciamo quella dove eravamo prima e ci siamo trovati bene o no sala mappa facciamo sala mappa all'ultimo piano mi ricordo che c'è da bravi game vai sulle scale a mettere i gemmere subito se non mi perdo eh bella che vado a vedere le scale vado e le trovo eh a me mi si è banchata l'arma tipo la vedonera cazzo il trauma pecc l'ho già trovato ma ci hanno già trovato ragazzi già la seconda volta mi ha dato male cazzo ho già fatto mi ho fatto vederla c'è che qua non è il massimo bocco stavano già qui praticamente si c'è il ma c'è l'operatore tutto nero ciò ma che cazzo i robottini comunque le pareti sono tutto uguali cazzo camioncazzi vai troppo per lo prendere le hanno messo un po' di neve di me dove dipendere vorrei dire eh si è preso tutto è tutto distruttibile per barco la squadra d'acqua molto più distruttibile sono un uomo in nero io muro in nero muro in nero in realtà sono bianco però vabbè io provo a tenere qua ragazzi il muro qua blu distruttibile il muro qua blu distruttibile come distruttibile questo qua video finire quel cazzo allora abbiamo perso cioè siamo tutti dentro dentro qua siamo cazzo io sono riuscito a livello un attimo questa vai addirittura col piede lo tolto ragazzi in giro di telecamere mi servirebbe tanto tanto non lo piazza eh arrivano eh però arrivano mi sembra il mio cazzo che si è un lavoro metto qua qua così la metto se provano a lasciare dentro reddita se da un altro piano spero eh mi stanno per ammazzare cazzo arriva da qua dove sono io ho ancora un troppo che è la scritta di redding giugno 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 da qua non pusciate non li pusciate per stato per se si sta arrivando a lì in manoviglia che non le pusciano un altro problema che siamo poi troppo hanno spinto hanno spinto solo perché mi hai visto quei robottini e basta il copre con l'entrata di robottini per il treno occhio feldi e che mi stai fermo non ti muover così tanto ma anche lo scudo è ghiacciato tipo essere ragazzi se tu te lì dentro non c'è di un muro sono lì dentro caso parola via stanno sparando dietro s o dietro dove o allora ti trovo quanto sta tanto la quarta non ho preso giurateli lì roma e non ha fatto fuori roma e non sopporti a distanza la proposta non avrò le vostre spalle cazzo troppo vicino ragazzo o la terza e rilassano cazzo non potete sottolineare non potete avvicinare così tanto a me cazzo sono troppo vicini prendete un angolo testo scusano atto finita è un angolo testo da vetro lo scudo film cazzo o segnalateli se riuscite racconto io li vedo dietro il tuo muro c'è presente lungo il corridoio dietro sul muro qua azzurro no 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 non dietro il tuo cursi meno del giro no questo devo fare giri troppo veloce destra destra sta per amore da un drone sta per amore da un giorno sfonda la porta e uccidi la sfondazione manda la porta e uccidi la sta lì no 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 non sono in una situazione si mangia sardegni sovrapposti un dacchi il gare per te che via ma che trovo il appassio in due con giurati in un giurati di coprirle no 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 non lo fare anno almeno un belacchi cito se fermo la sua entrare fallentrata stavola io lo ho trovato il treno non è che nemmeno prezzo al termine con dati torna di te e te e te mamma mia dietro di te c'era uno al corridoio preso cazzo c'è un altro c'è un altro da dietro no no fai il giro fai il giro da sinistro per la madonna fai il giro tranqui cazzo sta facendo avanti e indietro sapete dove è il tipo? sempre lì tu sali tranquillo le scale sali e vai a prendere uccidilo uccidilo adesso da la trapparta sinistra sinistra vai 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 no si è bloccato secondo me fucile a pompa nero no cazzo è fortissimo spara troppo veloce te l'ho detto che era buono come fucile cazzo per sportività chiaramente cazzo però hai visto che hanno scalato hanno scalato in giù ogni operatore così adesso bisogna ricordarsi di nuovo dove erano tutti gli operatori gommone raga gommone dai raga dai guarda che dal gommone possono fare sponkill anche se poi non lo faranno il gommone è la zona più esposta della mappa cazzo stiamo improvvisando raga non la conosciamo sta cazzo di mappa fighe stiamo improvvisando soltanto improvvisazione le clavo qui mi piacciono ma anche quando è uscito a rainbow six non spavamo nessuno un cazzo è bello così quando tutti iniziano a sapere tutto non è così esaltante cioè è diverso grazie fai le mappe come fossimo robot bisogna sfruttare esatto bisogna sfruttare quando ne escono i dlc così almeno sfruttiamo la nostra intelligenza il prossimo è scelta che sopra non c'è niente esatto la prossima clavo la facciamo ad aprile casinò casinò ma sempre là mamma mia io sono la lampada magari c'è anche capo sono diventato mezzetto e mezza lampada loro sono tanto capo sanno usare c'è un trauma pecca per certo lo sta prendendo il cast di loro eh mi hanno ucciso hanno bandit eh hanno bella roba bandit era sopra ragazzi e anche mute mi sono messo una telecamera abbastanza bene devo dire addosso e la telecamera in alto allora la tattica con sledge non è facile da fare perché loro barricano le botole ovviamente grazie passiamo da come prima le squadre di prima Kevin vai con sto passando dall'acqua ghiacciata vai con red eh ma se vabbè red è troppo lontano allora cariche sulle tre finestre voglio train voglio cariche sulle tre finestre guardate qui c'è un po' sì però c'è la mena non c'è più occhio occhio porca puttana porca puttana io non so bene qui se fare eruzione da dove eccolo l'ho visto Capkan l'ho visto noi non andiamo dall'alto che noi andiamo sempre a pieno terra che loro vanno dall'alto l'ho visto cazzo è lì a sinistra bravo no sono caduto tanto dove cazzo sono per favore per favore sopra train non so aspetta non so come girare il terreno e su non puoi ai conti cazzo occhio però passare di lì a proposito dall'alto voi vero stiamo andando si è certo però non c'è più il termite questo problema 1 vai 3 in avanti qua facciamo l'azione controlliamo le botole quindi accanto alla finestra così in questo caso se non hanno coperto le botole sarebbe bello questa sì ma questa no ok andiamo da quello allora allora te girati da questa parte diteci quando siete delle minacce red no non esiste no è buco del cazzo noi siamo sopra la stanza della stanza quello è il problema capito eh a me serve il termite qua non riesco a fare un cazzo cioè non riesce a fare proprio nulla no adesso per ora no c'è tutto barricato più visuale dentro ma di poco allora forse l'unica è che viene tutti su qui c'è un buco per termite ho qualcosa qua aspetta aspetta lancia un robottino sotto Kevin mentre tu fai girare il robottino piazza vanno passare sotto la porta vai 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 segnalateli scatta un po' aspetta train vado col drone un attimo aspettiamo ok sono qua sotto 3 aspetta aspetta ok vai quando volete 3 2 1 partiamo preso uno però mi ha preso uno a destra train a destra destra c'era il cazzo sdraiato c'era bravi cazzo bravi è così che si fa tempo abbiamo fatto i sacrificabili ma valsa la pena cazzo bella io ho preso quello l'angolo bella cazzo non hanno barricato la bottola è più importante in pratica oh non mangiate stiamo vincendo manco di poco vabbè esatto del tipo che se perdiamo vi cancello tutte le liste amici quanti cazzo diranno ci sono allora motori facciamo motori raga motori più in basso di tutti no no motori è in posto del cazzo è in posto secondo me non è male io e te stiamo sopra con cap can e frost capito red anche te red sta anche te sopra red sta anche te sopra rook e castle gli unici che stanno sotto eh frost c'è un punto per la tua trappola segnalamelo se riesci qui ho ancora la pompa nero vedi questa botola si sotto questa botola proprio lì sotto come sotto mi vuol dire sotto è sotto la botola c'è questo piano qua così se scendono prendono la trappola si è questo piano qua ok la dietro nel eh la trauma pack vedi la botola ho messo ho messo eh anche la prendete il trauma pack bravo vado sopra io che devo tappare la botola ci sono le botola spottatemela se le vedete si si dove ho messo si si ci sono e io una l'ho già vista vabbè faccio un altro giro il perlustrazione se che ti chiedo io la chiedo stavolta qua aspetta non ho visto un cazzo di botola ma su tutte le trappole via dai coglioni devo salire ancora più in su io se riesco via dalle palle merda 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 occhio fil torna giù filcazzo ma hai visto dove lo stagio no 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 non se lo aspettano allora facciamo allora facciamo silenzio ecco che arrivano i droni bollantro vato niente fate pure casino adesso che tanto l'hanno trovato qui si sono non so cosa sto coprendo aspetta spieghi se c'è la pietra da fare la trappola sotto è visto un drone e forse c'era una persona si si vai s**tato quando c'è il piedimento preso cazzo ti ricordi lo piazzi del botola e uccidili preso uno da qua però adesso se lo aspettano lancio una nitros del fuori ok via ripiego un attimo dovete le camere io draco occhio hai visto lì dove hanno spaccato l'oro eh si ci lancia il fumo occhio drag sento qualcosa alla tua sinistra eh lo so me ne sto andando via sto andando al piano di sopra magari non se lo aspettano ok infatti qua hanno spaccato tutto sono entrati da qua raga vado un attimo sopra che dovrebbe carire via meraviglioso in teoria ma perché chiudete tutte le cose impossibili e immaginabili le trappole vengono distrutte con la esplosione so sentito una finita se ne entrati sicuramente da qua se ne entrati sicuramente da qua 1 qua 1 qua 1 qua l'ho visto dove uno spesso di flash non lo so dove ho spottato qua 2 a 2 qua da questa ponta sparano quelle merda non sparano più quello di tanti proiettili spero ma guarda che era morto eh no sto cercando gli sto dando la caccia io sono in due merda servona nitrosel ci penso io Kevin forse vai presi carico arma questo è qui guardi dov'è l'altro? mamma mia bella bella cazzo bella erano entrati da quella porta lì bravo train eh io ho preso lo scudo da dietro la classe mamma mia mamma mia buona cazzo vittoria perfetta in cv ed applausi signori tra l'altro aveva l'operatore tutto nero questa è la risposta che la gente che campera è brava solo a camperare esatto quando non conoscono la madre è l'ora di reactivare il rinbo è l'ora di reactivare grazie a tutti